Ormai l'aiuto che si chiede rivolgendosi ai centri di ascolto di Caritas Ambrosiana e di quelli che forse, pur in tempo di crisi, non ci si aspetta. Si domanda cibo, pacchi viveri, sostegno per i bisogni primari. E certo, dopo cinque anni di crisi, è un indicatore che fa paura. Lo evidenzia dei dati del dodicesimo rapporto sulle povertà e indiocesi di Milano, presentati in anteprima, dopo aver incontrato 16.560 persone nell'intero 2012, di cui oltre 13.000 direttamente ai centri di ascolto e il rimanente nei servizi di accoglienza, in quelli per gli immigrati e l'orientamento al lavoro, due sono i principali trend che emergono. Appunto, la richiesta di aiuto alimentare, con gli italiani che hanno domandato direttamente cibo, 37% del totale, in una percentuale sostanzialmente pari in questo agli stranieri. È aumentato in questi anni la capacità dei nostri centri di ascolto, delle nostre carità sparocchiali, di attrezzarsi anche con dei centri di distribuzione, storicamente di indumenti, ma adesso anche di viveri. In questi ultimi anni ci sembra che la grande distribuzione ha avvertito, come dire, l'immoralità di questo meccanismo di sprechi, mettendo a disposizione, appunto, cercando delle collaborazioni, dei rapporti, delle convenzioni con le Caritas locali. Inoltre, il secondo dato, l'aumento che Caritas definisce trammatico, dell'11,5% dei disoccupati da oltre un anno. Interessante è anche la cifra disaggregata relativa agli stranieri, che continuano a essere il 70% degli utenti dei centri, ma con un calo del 2% rispetto al 2011. Al contrario, il tasso di incremento annuo delle persone italiane ha avuto proprio un andamento opposto. È passato dal meno 0,7% tra il 2001 e il 2007, al 4,25% nel periodo successivo, 2008-2012. Grazie a tutti.